Eccoci qua, ora della pappa. Allora, siamo a Umeda, Yodobashi Kamer, Umeda, Osaka. E siamo al settimo piano e tutto il settimo piano, tutto il ristorante, ce ne saranno 30 allo stesso piano, e abbiamo preso il Katsudon. Lei non aveva mai provato il vero Katsudon giapponese, io sì, mi era piaciuto un sacco, dunque Katsudon con riso, qualcosa che è da scoprire, la classica, me l'apri tu, zuppa di miso, salsa di soia, uovo da sbattere insieme per avere la salsa del Katsudon. Dai, assaggiaci il Katsudon, perché loro l'hanno già visto, assaggiare il Katsudon. Mischi tutto, fai un bel macello, ecco, così, energica, energica. Bravissima. Ok, poi prendi una fetta di Katsudon. Eh, 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 le mani. Ma non una spolverata, pucciaccelo. Ok? E assaggiare il Katsudon. Dovrebbe essere croccantissimo. Che figure mi fai fare. Molto buono. Molto buono. Tieni un secondo che adesso vi faccio vedere la cattiveria. Eh, vabbè, ma comunque io sono ancora bruciata da ieri sera. Takoyaku. E' brutta avventura. Bruttissima. Aspettate tipo un'ora prima di mangiare. Vabbè, facciamo un bel. Perfetto. Poi, le pettine di Katsudon. E' arrivato il momento del dolce. Cambiamo il ristorante perché avevamo doppiato i pancake. Ma guardate che pancake. Al tre farò una magia. Uno, due, tre. Meglio dal vivo o... Lo so. Lo so, sembra buonissima, lo sarà. Trattamente la colina. Guardate, guardate come morbido. Primo piano. E' una banana. E' una banana, strada e una banana di uovo. Banana, strada. Ho premesso un filo di panna anche in mezzo. Panna. Questa, taglia bene. Tonno rio mare. Si taglia come un grissino. Andiamo ad assaggiarla. La tassi dè. Un po' di salsa di fragole. Una cosa, il pancake è ancora caldo. Buonissimo anche questo. Al prossimo video, al prossimo video acquisti, e al prossimo negozio. Sempre nuovi video. Iscriviti al canale. Alla prossima. Iscriviti alla pagina Facebook. Perfetto.